Fare pressing su Regione e Ministero della Salute per difendere il punto nascita dell'ospedale Peligno. Arriba dirlo in una notte la senatrice Stefania Pezzopane, che si era già pronunciata a riguardo in un sopralluogo fatto a Sulmona nei giorni scorsi. Attivare un tavolo tecnico per salvare il punto nascita di Sulmona, così come richiesto da tempo dal sindaco per fare un ragionamento che tenga conto di dati oggettivi. Bisogna tenere presente non solo il numero dei parti effettuati, ma la condizione orografica, le distanze degli ospedali più vicini, la viabilità difficoltosa nelle zone interne, specie nella lunga stagione invernale, il rischio di una mobilità passiva dall'alto sangro verso il Molise. La decisione della soppressione sembra essere già adottata, ma sarà resa efficace entro un paio di anni. Saranno due anni decisivi, secondo la senatrice, per convincere Regione e Ministero a invertire la rotta. Il presidio di Sulmona va rafforzato, prosegue la Pezzopane, rilanciandone le potenzialità e prevedendo l'unità operativa presso la nuova serie del nosocomio, in procinto di essere costruito. Risanare il deficit e far quadrare i conti è una priorità, ma questo non può essere fatto tagliando in modo lineare i servizi a tutela della salute del cittadino e della donna. La salute e la sicurezza di madre e neonati, conclude la senatrice, non possono essere subordinati a standard e numeri che non tengono conto di altri standard e altri numeri.